E' stata inaugurata lo scorso sabato 28 settembre la nuova sede di Baby Center Chicco Centro Prima Infanzia da 0 a 8 anni. Ampi spazi, vastissima scelta di prodotti di qualità per la prima infanzia, abbigliamento, giocattoli, tanta gentilezza e soprattutto esperienza nel settore accoglieranno la clientela che vi farà visita. La nuova sede si trova in via Madonna del Carmine 93, uscita Agropoli Sud. Grazie per che mi date l'occasione di presentare questa nostra nuova apertura, l'impegno di 22 anni nel punto vendita di Capaccio Scalo. Abbiamo deciso anche di puntare su Agropoli, di proporre un negozio, un centro prima infanzia adatto soprattutto ai clienti per scegliere prodotti di qualità e per spaziare nel nostro negozio. Un comodo parcheggio ubicato all'uscita di Agropoli Sud, per cui questo nostro spostamento avevamo già un punto vendita al centro di Agropoli. Con determinate difficoltà logistiche abbiamo deciso di trasferirci proprio per avere una situazione logistica più comoda e dare ai nostri clienti maggiori comodità. Grazie a tutti. Grazie a tutti.